Ciao, oggi parliamo della Coding Week di Boolean, un evento davvero pazzesco e gratuito, organizzato dai ragazzi di Boolean Careers. Durante questa Coding Week, che è durata una settimana, esattamente dalle 18 alle 20, abbiamo sviluppato insieme una serie di videogiochi utilizzando HTML, CSS e JavaScript, quindi diciamo i tre linguaggi su cui si basa il front-end development. E come è stata strutturata questa settimana? È stata strutturata con appuntamenti di due ore, come abbiamo detto, dove nel primo giorno abbiamo visto le basi di HTML e CSS, il secondo giorno ci siamo addentrati in JavaScript, quindi vedendo un po' quali sono, cosa si può fare in JavaScript, in sostanza la logica su cui si basa, e poi successivamente abbiamo sviluppato dei giochi, cioè gli sviluppatori hanno sviluppato dei giochi, però devo dire se all'inizio mi sentivo un po' spaventato, poi già dal secondo videogioco sono riuscito a comprendere un po' di più le dinamiche di JavaScript. Io comunque avevo già un'infarinatura generale, ma mi è servito davvero tanto questa Coding Week perché mi ha permesso di capire effettivamente come applicare JavaScript, perché mi ha fatto sempre venire un mal di testa, vi dico la verità, quindi mi ha fatto venire un mal di testa atroce JavaScript, però vedendolo effettivamente come riuscire a implementarlo, come lavoravano gli sviluppatori che scomponevano un problema più complesso in tanti piccoli pezzettini per poter raggiungere il risultato, è stato davvero interessante. Quindi prima di dare la mia valutazione andiamo a vedere cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto di questa Live Coding Week. Prima di tutto è stata una grande occasione per ripassare HTML e CSS perché effettivamente era da tanto che non ci smanettavo un po' e dopo che passa un po' di tempo, ahimè queste competenze un po' te le scordi, quindi HTML e CSS è stato davvero un bel ripasso di una giornata veloce e facile. JavaScript, ah il ripasso ha fatto benissimo perché non mi ricordavo assolutamente nulla ed è stato davvero davvero puntuale, le live, le live sono state pazzesche perché mi ha permesso di capire come effettivamente affrontare JavaScript, in che modo ragionare quando devo creare, in questo caso era un videogioco, quindi loro come ho detto prima partivano da un problema che era complesso, cioè che erano delle dinamiche, oddio complesse, che magari per loro erano semplici ma perché per me erano complesse, e sono riusciti a scomporre un grande problema in tanti piccoli mini problemi e attraverso appunto le varie, le varie funzionalità di JavaScript sono riusciti a creare un videogioco, quindi ad esempio hanno creato il videogioco del Triss, il Space Invaders, schiaccia la talpa, insomma tutti questi giochini interattivi che erano molto molto belli e molto molto interessanti. Infine ci sono state fornite le lezioni, i codici e le slide, sicuramente riguardare le lezioni è fondamentale perché comunque nel momento in cui guardi la lezione prendi principalmente appunti, o almeno io ho preso appunti e poi comunque se vuoi rimplementarlo fa sempre comodo riguardarselo con gli appunti sotto per vedere magari se ti sei salato qualcosa, se non hai capito la logica di qualche passaggio. Le slide poi ovviamente utili perché comunque un ripasso di HTML, un ripasso di CSS, un ripasso di JavaScript su slide non è assolutamente male. E poi infine i codici, i codici dei giochi perché comunque è utilissimo riguardare il codice e capire che cosa si è stato fatto. Quindi sicuramente questi sono gli aspetti positivi della Live Coding Week. Sicuramente ci sono degli aspetti negativi. Prima di tutto serie a digiuno di programmazione, risulta davvero difficile seguire l'evento. Io personalmente ho trovato delle difficoltà, soprattutto su JavaScript, però più che altro la prima lezione nel primo gioco perché sono andato nel panico, cioè non riuscivo a seguire. Poi nelle lezioni successive ho ripetuto un po' JavaScript e quindi sono riuscito a tenere il passo. Quindi diciamo era molto, secondo me, era molto difficile da seguire per persone completamente a digiuno della materia. Se invece già conoscevi qualcosina di HTML, CSS e JavaScript, già riuscivi a seguire un po' di più, secondo me. Seconda cosa che non mi è tanto piaciuta è che c'era poca possibilità di interagire, però è normale. Anche se c'erano tanti ragazzi che comunque facevano domande, però giustamente i moderatori non riuscirono a stare appresso a tutti. Però è anche vero che è un evento gratuito, cioè non è un bootcamp, è un live coding gratuito. Quindi per quello che era l'obiettivo dell'evento è stato più che utile. Quindi la mia valutazione personale della Fondling Week è 9 su 10 perché mi sono divertito tantissimo. Ho preso un sacco di appunti, ho fatto un ripasso che mi sarà molto molto utile. Gli insegnanti erano super motivati, spiegavano davvero nel dettaglio che cosa stavano facendo ed è servito davvero tantissimo perché magari molte volte un professionista potrebbe sorvolare su alcuni passaggi che potrebbero essere considerati rivelevanti, mentre loro erano sempre puntuali, spiegavano tutto quello che scrivevano, veniva spiegato e veniva spiegato il perché si facesse un modo rispetto a un altro modo. Di ogni minimo passaggio all'interno della sessione di coding è stato spiegato, sono stati illustrati i vantaggi e gli svantaggi magari di determinate scelte. Ti ringrazio per l'attenzione e ti consiglio di partecipare alle prossime live coding week se ci saranno organizzate da Boolean, se ti interessa la programmazione, però, almeno questa è la mia opinione, devi già avere un minimo di competenze su HTML, CSS e JavaScript. Altrimenti non ti sarà possibile seguire, cioè io ho già fatto un po' di difficoltà, lo ammetto. Quindi magari sei che una persona che è completamente a digiuno può davvero generare un sacco di confusione. Quindi magari formati in maniera autonoma anche vedendo dei video su YouTube. Io qui ho fatto diversi video, ti lascio la playlist che puoi trovare su HTML, CSS e spero di farne altri nelle prossime settimane. E noi ci vediamo al prossimo video.